allora 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 ciao ragazzi fermi la oggi vi farò vedere un dispositivo che secondo me potrebbe essere quello definitivo in tanti tantissimi di voi guardate i video dei multimetri nella speranza di trovare quello adatto a voi che non costi tanto bene oggi ho un dispositivo che secondo me è adatto a tutti che costa circa una decina di euro e che fa tutto da solo quindi adatto a chiunque perché all'auto range riconosce automaticamente quello che vogliamo fare e alle funzioni in base per poter essere utilizzato da chiunque con quello che serve effettivamente non siamo dei tecnici non abbiamo bisogno di fare misurazioni particolari quindi abbiamo la possibilità di misurare corrente continua corrente alternata resistenza continuità no contact voltage abbiamo la retroilluminazione e un led viene venduta addirittura con le batterie quindi nei 10 euro circa trovate pure la batteria della dura cioè quindi ragazzi tesman tm 510 un piccolo multimetro che oggi vi voglio fare vedere con veramente con piacere perché l'ho confrontato con ben sei multimetri differenti ora vi farò vedere la prova magari con due o tre per farvi vedere che effettivamente alla lettura risponde corrisponde a quella degli altri multimetri quindi per me è affidabile e quei multimetri sono stati confrontati con dei multimetri professionali quindi sono un riferimento affidabile adesso però voglio mettere sul bancone e voglia farvelo vedere iniziamo facciamo quindi una sorta di finto unboxing nel frattempo voglio ricordarvi che vi lascerò il link nel primo commento alla descrizione sperando di associarlo ad un codice di sconto già di per sé costa poco ma col codice sconto cercherò di farvi risparmiare ulteriormente qualcosa quindi nella scatola troviamo l'illustrazione il modello quindi tm 510 della tesman da questa parte alcuni riferimenti per quanto riguarda appunto quello che vi ho già detto auto regno no contact voltage retroilluminazione eccetera eccetera ovviamente prodotto made in cina disponibile con tre colorazioni verde e rossa e blu apriamo quindi la confezione troviamo un manuale di istruzioni fatto davvero molto bene scritto anche in italiano con tutte le informazioni più interessanti e che siamo in questa pagina diamo quindi un'occhiata rapida alle caratteristiche tecniche categoria 2 tensione massima misurabile 600 volt nel campionamento circa tre volte al secondo con 4000 conteggi e qua abbiamo un'immagine di come vanno posizionate le batterie ma vi farò vedere tutto per bene poi all'interno troviamo anche questa borsettina comoda perché non tutti i multimetri vengono venduti all'interno della bozzettina questa economica una semplicissima custodia però comodo per trasportarlo quindi multimetro i puntali messi da questa parte ovviamente troverete anche le batterie della duracele di cui vi ho parlato e qua troviamo i puntali con i loro tappini che rimuoviamo subito ma prima di collegarli a multimetro voglio farvi vedere che lo stesso ha una protezione in gomma quindi una cover che lo protegge da eventuali urti questo è lo sportello per poter emettere le batterie due batterie mini stilo e adesso possiamo collegare puntali porta com e puntale input quindi di colore rosso abbiamo solo tre tastini con diverse funzioni per poterlo accendere basterà premere il tastino di colore rosso mantenerlo premuto per un paio di secondi si accenderà il display con la scritta auto e questa lancetta virtuale che indica le diverse funzioni quindi si va alternando abbiamo anche la possibilità di accendere la retroilluminazione devo dire funziona bene solo messo in questa posizione praticamente anomala il contrasto non ci aiuta ma posizionato in questo modo riusciamo a vederlo bene solitamente il multimetro si guarda in questa direzione quindi riusciamo a utilizzarlo praticamente da ogni angolo tranne dall'alto questo stesso tasto però mantenendolo premuto ci dà la possibilità di accendere anche il led nella parte posteriore che devo dire fa una buona luce non potentissima però riesce ad illuminare bene una luce soffusa non netta quindi grande angolare questo è il tastino per passare a funzione no contact voltage più la possibilità di memorizzare eventuali letture per tenerle congelate sullo schermo l'utilizzo di questo multimetro è molto semplice ripeto adatta praticamente a tutti quindi sciolgo questa matassa che si è formata e vi faccio vedere la cosa più semplice diciamo il 90 per cento delle persone che lo utilizzano a livello obbistico lo fanno per misurare la tensione residua di una batteria che sia della macchina che sia moto che sia una batteria di un dispositivo qualunque quest'anno 18.650 e se vogliamo vedere la tensione residua basta semplicemente collegare i due puntali e vedere la tensione che rimane all'interno io so che questa dovrebbe essere se ricordo bene 39 o 4 circa quindi la posizione in automatico come vedete mi da 4 volt esatti quindi come attenzione anche se ho invertito la polarità come attenzione viene rispettata riportata perfettamente adesso facciamo la prova anche con un altro multimetro di un'altra marca e vi faccio vedere che effettivamente la tensione riportata è praticamente la stessa sono tutti i multimetri che io già ho testato e confrontato con i multimetri di buona qualità e che quindi sono affidabile lo scarto minimo potrebbe esserci però non è detto quindi guardiamo in questo caso abbiamo pure quattro volte quindi misura allo stesso modo mi dà la stessa risposta proviamo con un altro poi ovviamente non farò più altri confronti per ogni tipo di misurazione perché altrimenti perderemo inutilmente tempo quindi facciamo la prova anche con quest'altro multimetro che costa 4 5 volte in più rispetto a quello e anche qua abbiamo quattro volt esatti quindi come avete visto riporta la stessa misurazione e ci permette di utilizzarlo per poter riconoscere la attenzione residua e altre funzioni che adesso vi farò vedere parlando sempre di tensione per esempio possiamo lavorare anche sulla 230 volt in questo caso ci darà solamente la tensione della 230 volt in corrente alternata sto utilizzando questo cavo perché il più sicuro per fare queste prove anche perché ci dà solamente la possibilità di controllare la tensione quindi non possiamo vedere negli hertz né altro ecco vedete abbiamo 230 volt stessa misurazione che ho anche con gli altri multimetri mi raccomando ragazzi con la corrente alternata comunque corrente di casa non giocateci ora facciamo che altra prova vediamo per esempio la continuità allora è la prima prova in realtà che si fa quando si prende un multimetro per vedere se funziona bene perché se ci sono per esempio dei cavi danneggiati non ci renderemmo conto se il danno è su quello che stiamo misurando oppure sui cavi o sul multimetro quindi basta toccare puntali il nostro multimetro capirà in automatico che noi vogliamo controllare la continuità ed emetterà un suono come vedete si accende anche un led di colore verde non è velocissimo perché essendo automatico perde quel mezzo secondo per capire cosa sta facendo e subito ci avvisa quindi nel caso in cui stiamo testando come vedete se andiamo molto velocemente abbiamo una risposta immediata sul display però il bip effettivamente parte dopo mezzo secondo adesso facciamo una misurazione per esempio con una resistenza allora questa dovrebbe essere 8 e questa 4 quindi facciamo la misurazione in questo modo come vedete abbiamo 8 15 siamo e qua nella sua posizione abbiamo 5 ricordavo male anche per questo voglio farvi vedere la misurazione con un altro multimetro quindi prendiamo lo stesso di poco fa quindi qua abbiamo pure 8 81 come avevamo su quello e qua dovremmo avere 5 quindi 4 e 9 esattamente la stessa misurazione di quest'altro praticamente una differenza molto trascurabile quasi inesistente perfetto quindi per quanto riguarda l'affidabilità io posso ritenermi soddisfatto un piccolo multimetro che costa poco e che ci dà la possibilità di fare queste misurazioni che abbiamo appena visto effettivamente in casa utilizzare un multimetro come questo che ho sfruttato per decenni e che però ha tantissime funzioni che effettivamente io stesso utilizzato pochissime volte io utilizzo solitamente la misurazione della batteria come vi ho detto più volte qualche altra funzione ma è raro quindi avere tutte queste funzioni complicarsi la vita nel dovere impostare il fondo scale eccetera secondo me per un utilizzo domestico diciamo superfluo basta spendere pochissimi soldi per comprare un dispositivo come questo che ci va anche la possibilità in caso di scarsa visibilità di vedere grazie a led nella parte posteriore in questo caso riusciamo a vedere ancora meglio quanto illumina ma voglio farvi vedere l'altra funzione quindi no contact volte basta premere e mantenere premuto il tastino in alto a sinistra e avvicinarlo ad un cavo in questo caso e metterà un bip e si accenderà anche la lucina di colore rosso più ci avviciniamo più velocemente suonerà e di conseguenza ci segnalerà la presenza della tensione in realtà questo tipo di funzione serve anche di individuare dove sia la fase però siccome non è molto preciso perché non ha un punto specifico allora eventualmente utilizzato lo solamente per vedere se c'è della tensione in dei cavi e non come cercafase come dispositivo a me è piaciuto costa poco e vi ho dimostrato che effettivamente è affidabile sempre in utilizzo hobbistico e ma io quando sono sulla scala sopra l'impianto nucleare che sto controllando no se sei sulla scala dell'impianto nucleare non comprare questo comprare un'attrezzatura che sia destinata a quello che devi fare che sia professionale perché vuol dire che sei un professionista questo come ho detto per tutto il video è destinato agli hobbisti per l'utilizzo domestico ma anche eventualmente ad un professionista che vuole un multimetro economico rapido da mettere nella cassetta degli attrezzi semplicemente per vedere appunto se c'è continuità o poco altro sicuramente non è uno strumento professionale ci mancherebbe altro però sei utilizzato da un professionista dalle stesse risposte che da ad un hobbista io personalmente se fossi un professionista anziché portare un multimetro costoso su una scala per fare delle misurazioni semplici per le quali non ho bisogno di estrema precisione un dispositivo di questo tipo che mi cade si rompe ok ho speso poco se sono invece un hobbista ho trovato la soluzione adatta per poter fare tutte le misurazioni di cui ho bisogno e se invece sono una persona la quale non interessa il fai da te ma semplicemente ho bisogno di misurare ogni tanto la tensione delle batterie della macchina tensione delle batterie che voglio conservare per capire se sono ancora carichi o meno e allora anche questo si rivela un dispositivo affidabile che vi ho dimostrato che effettivamente corrisponde agli altri tester costa pochissimo secondo me ne vale la pena poi decidete voi vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione vi ringrazio di avere visto questo video fino in fondo vi invito ad iscrivervi al mio canale mettere mi piace cliccando qua giù sul pollicione su cliccate anche sulla campanella dopo esservi iscritto e ci vediamo tutti i miei prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto